Non un campione del mondo, ma un primo posto di una competizione mondiale, per dirla con le stesse parole di Giulio Perpetuo, che si aggiudica la prima posizione nella categoria RX della competizione internazionale dei Trials. L'atleta sulmonese di CrossFit è stato dunque protagonista in assoluto nell'appuntamento mondiale online di fitness, che ha visto la partecipazione di 1880 concorrenti. Finalmente è arrivato il risultato, è incredulo davvero, ho vinto. Perpetuo ha commentato così ieri sera su suo profilo Facebook appena è giunta la notizia. Una bella soddisfazione, un'impresa grandiosa ottenuta registrando i video delle performance tra un turno e l'altro nella fabbrica dove lavora. La carriera sportiva di Giulio Perpetuo è stata caratterizzata da tanti anni di atletica leggera a buoni livelli, per poi avvicinarsi nel 2019 alla nuova disciplina del CrossFit frequentando la palestra di Popoli. Perpetuo ha ringraziato il suo allenatore Stefano Quarta e quanti lo hanno sostenuto. Ho imparato a soffrire, ho imparato a resistere al dolore, ho imparato a sentire sangue in bocca, ha commentato ancora Perpetuo anni di sacrificio che lo hanno portato a centrare un altro grandioso risultato.